Ciao ragazzi, siamo qua con Roberto Bonanno, siamo al King con Carlo Comito, uno dei migliori che fai nella vita? Faccio il registro di classe, io sono la maestra, maestra Roberta, e siamo venuti a trovare il nostro amico Giovanni Cacioppola che vi saluta e si sta preparando per l'anno di scena. Adesso fra un po' ve lo facciamo salutare. Buonasera a tutti.